Se le istituzioni tra di loro non si rispettano, non credo che il cittadino si senta autorizzato a rispettarle. Sentenze troppo spesso commentate con aggressività e magari scarsa cognizione di causa, anche da parte di chi ricopre ruoli istituzionali. È una tirata ad orecchie ad un certo mondo politico, quella che arriva dall'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar del Veneto a Venezia. Nel corso della sua relazione il presidente Nicolosi lo dice senza troppi giri di parole. Un riferimento esplicito, poco dopo, e alle reazioni polemiche sulla sentenza riguardo all'ammissibilità del referendum per la separazione di Venezia e Maestre. Questo fenomeno del commento non è solo del Veneto, è anche di altre realtà. Ci vorrebbero maggior rispetto, specialmente chi ricopre ruoli istituzionali, dovrebbe avere maggior rispetto del lavoro delle altre istituzioni, specialmente se queste siano titolari di un potere che è diverso. Nel 2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha pubblicato 2.713 provvedimenti, tra cui 787 sentenze, 316 sentenze brevi, 616 decreti decisori e 427 ordinanze cautelari. Ma il dato che spica di più è che al Tar si ricorre sempre meno. 1.419 ricorsi nel 2018, circa 1.000 in meno rispetto a 10 anni fa. Forse anche un calo di fiducia da parte dei cittadini, ma non solo. Si è allargata la fascia delle persone che stanno raggiungendo, ahimè, la soglia quasi della povertà. È un insieme, una miscela che alla fine fa riflettere e dà preoccupazioni. Tra le sentenze di quest'anno particolarmente importante è quella per la Pede Montana, dichiarando inammissibili ricorsi contro la Regione. È stato un contenzioso complesso, certamente abbiamo cercato di arrivare a sentenza proprio perché ci rendevamo conto che vi erano interessi forti, perché i lavori già erano iniziati in alcune tratte.